E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi trovo il nostro consueto Morning with Crypto L'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo nella notte Andremo ad approfondire il casino mettiamola così che è accaduto su Wall Street legato al titolo di GameStop Perché torna la FOMO e soprattutto torna quella che è una logica di mercato molto particolare e che potrebbe tornare ampiamente e in maniera abbastanza rapida anche nel settore delle cripto Ma come sempre prima di partire un invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qua sotto se questi contenuti vi fa piacere ricevere di on time quando serve Insomma sapete che è fondamentale per poter portare avanti questo progetto e soprattutto se siete nuovi ricordatevi anche di iscrivervi con il clic sulla campanellina E di utilizzare se volete i link che trovate qua sotto in iscrizione che aiutano il canale a sostenersi e rappresentano i principali appunto servizi che utilizziamo anche noi personalmente all'interno del settore E vi danno gli sconti più elevati appunto che trovate in giro grazie al vostro supporto Detto questo ragazzi non perdiamo tempo e partiamo Partiamo da appunto il profilo di Roaring Kitty Che cos'è questo profilo? Questo è stato il profilo che ha dato il via diciamo a tutto quello che era il discorso di short squeeze che è arrivato sui titoli di GameStop e di AMC Esatto e di tanti altri titoli in realtà questi erano i principali che sono stati appunto una corsa allo short squeeze appunto sui mercati tradizionali Non voglio ripetere tutta la storia precedente però sappiamo che è una situazione che rinasce insomma un paio di anni fa quindi non è attuale Ricordandoci appunto di come questi investitori piccolini siano andati a cercare di far saltare le banche che andavano a shortare pesantemente alcuni titoli Quindi in quel caso diventano appunto meme stocks ok? In realtà questo profilo era fermo che è quello che ha organizzato il tutto dal 2021 e ieri è arrivato con questo ok? Con questa questa immagine dove c'è questo ragazzo con in mano un joystick che da fermo si porta in avanti come dire ora iniziamo a giocare seriamente E ha fatto il disastro ha fatto il disastro perché GameStop è volata e ha fatto dei rally incredibili portando il prezzo a fare più del 100% nel giro delle 24 ore Il titolo è stato sospeso dalle contrattazioni per parecchie volte mi pare 5-6 volte almeno E ha creato pensate un miliardo di dollari di liquidazioni all'interno di solo il titolo appunto di GameStop Questo perché l'accelerazione del prezzo e l'aggressività non ha permesso appunto agli short seller di essere in controllo della situazione E quindi ha portato una copertura molto forte al prezzo che ha portato ulteriore crescita appunto esplosiva delle quotazioni e quindi ha fatto il panico Su cos'è che voglio ragionare qua secondo me e che può tornarci utile anche a noi Nel senso tutto questo accade perché non perché ci sia un reale interesse nel titolo GameStop Cioè non è che GameStop ha annunciato la partnership del secolo, ha cambiato qualcosa nel suo business model e che quindi ora vale il doppio rispetto a ieri Ma semplicemente si tratta di quanto le community possono essere decisive sull'azione di prezzo di un'azione in questo caso Di un token nel nostro caso e di quanto sia importante stare attenti a non far arrabbiare troppo, diciamo così, i retail Perché è tutta una situazione di fomo che noi siamo abituati a vivere e che può tranquillamente tornare in tutto quello che è il discorso soprattutto meme coin Perché ricordiamoci che la componente appunto di supporto è fondamentale proprio per il prezzo Nonostante ci siano degli sviluppi o meno, delle situazioni da chiarire o altro Il supporto a community e il buy che può fare la community ragazzi è il 90% delle meme coin Se non il 100% Però questa situazione qua ci fa capire che non si può dormire Soprattutto in questa situazione qui dove stiamo vivendo adesso Perché può essere da un momento all'altro che possa partire un rally importante di tante situazioni Di tante dinamiche, di tante coin che sono appunto in attesa E poi quando si dorme inizia a partire la fomo È pericolosissimo entrare Quindi mi raccomando non vi sto dicendo comprate a caso questo perché domani accadrà questa cosa qua Ma semplicemente non dormite in questo periodo un po' di lateralizzazione Perché è il momento migliore per rimanere sul pezzo aggiornati Capire cosa fare e costruire la vostra strategia Altrimenti rientrare appena si va in fomo Fate la figura del tassista, del parrucchiere, di chi volete Insomma che sono solitamente quelle figure che andiamo a associare È tornato, è il top signal, è il barista che mi ha detto Ah ma Bitcoin ho visto che Insomma mi raccomando non cadete in questi errori Errori che gli ETF non stanno andando a fare Perché diciamo che nella giornata di ieri è stata una giornata abbastanza positiva Ha visto degli inflow di 66 milioni di dollari La situazione è abbastanza stabile Un po' a giornate alterne in realtà E questo è dovuto al fatto che Grayscale non ha liquidato nulla Ieri invece guidava 103 milioni Fidelity guida la giornata di ieri con più 38 milioni e 6 Insomma e va a fare un inflow positivo Abbastanza comunque stabili gli ETF in questa fase Una invece, prima di passare gainers ai losers Situazione molto simile è proprio quella di impulso Ma ne abbiamo già parlato di come siamo in una potenziale ancora bull flag Questa è sul settimanale Ma anche sul giornaliero lo possiamo andare a osservare E vedete proprio come in realtà le correzioni negli ultimi impulsi di quest'anno A partire proprio dai minimi fatti nel 23 Andiamo a fare dei pump importanti Con scarichi molto spesso nell'arco Nel 20-25% Infatti l'ultimo ha segnato un minimo a meno 23.6 Quindi potenzialmente potrebbe essere una situazione molto molto simile Andando a vedere quelli che sono i gainers delle 24 ore Appunto chi troviamo Pepe, Flochi, Whiff, Bomb Ok? Tutte alcoin e tutte memecoin Perché sono molto legate a tutta questa, lo vedete, narrativa A tutta questa community driven Cioè in una situazione dove non è tanto il progetto in sé Ma è la community, la comunità che supporta il prezzo e supporta il progetto Quindi più 24 per Pepe, più 21 per Flochi Whiff un più 12 Bomb un più 12 E-Cash un più 11 Ordion un più 11 Nier un più 11 Bonk un più 11 Doge un più 10 Shiba Lo vedete, proprio tante meme all'interno dei top gainers Tra i losers praticamente nulla di particolare Whirlcoin un meno 4 Ettena un meno 3 Whirlmall un meno 3 Run un meno 3 Però c'è ok La giornata di ieri è stata una giornata positiva Perché il prezzo ha rimbalzato di Bitcoin ulteriormente Nella zona dei 60.000 E6 Ritestando nuovamente il nostro magico supporto Recuperando 12 Ma non riuscendo ancora a superare 26.50 Che diventano gli scogli più importanti Per prima di andare a riattaccare queste zone qua A mio parere dei 65-66.000 dollari Lo vedete proprio come ci sta tenendo a bada Questa 26 Questa 50 Proprio anche in tutta questa zona qua Qua E adesso ci stiamo riprovando ora Di nuovo Cercando il supporto sulla 12 EMA Dipenderà Abbiamo molto tempo davanti La settimana è appena iniziata Quindi siamo a martedì Quindi il tempo di avere dei volumi c'è tranquillamente Vedremo se riusciremo a recuperarla In ogni caso recuperando questa Ci aspettiamo potenzialmente un'accelerazione In queste zone qua Potrebbe tranquillamente Essere un play interessante Da un punto di vista anche di Di Total 2 Quindi Market Cap Legata al Coin Lo vedete La situazione è molto stabile Non c'è un uptrend Si sta andando a cercare un bottom Quindi anche qua Si può andare tendenzialmente A valutare anche delle potenziali entry Sapendo appunto che Bitcoin Deve però andare a confermare Questo potenziale scenario Perché l'ulteriore conferma L'abbiamo dalla Dominance Che vedete anche nella giornata di ieri È stata up molto forte Nell'andare a recuperare questo livello Dei 55% E superandolo E adesso appunto un piccolo storno Ma ripeto È molto legata Alla condizione generale Appunto di queste resistenze Che sono presenti In maniera importante Su Bitcoin Anche Ethereum Che appunto è la nostra regina Anche per volumi Vedete proprio come sta seguendo Questo pattern Questa trend line discendente Un altro indicatore Della potenziale reversal Che possiamo avere sulle altcoin È il recupero Magari ritesto Di questa trend line Che ormai diventa Sempre più attendibile A quel punto Possiamo avere Una rottura E una situazione Di inversione Un po' Su tutti i nomi Del settore Poi alla fine Ottimo supporto Comunque di Ethereum Nella zona Dei 2008 E 50 Circa Insomma Poi non prendete i livelli Alla perfezione Insomma L'importante è capire Dove si va In shadow 2008 e 50 È un livello Comprato in maniera Abbastanza aggressiva Quindi non voglio aggiungere Troppa roba Perché comunque ci siamo detti Un po' tutto quello Che era necessario Dirci in questa giornata Vi ricordo che appunto La struttura rimane Di estrema lateralizzazione Anche qua Volendo si potrebbe Tracciare un'altra trend line Ma non voglio appunto Appesantire la chart Molto più semplice Secondo me Un'analisi Un attimino Di zoom out Anche sul settimanale Come lo vedete Abbiamo visto Nell'immagine di prima Rimane molto stabile E molto in lateralità All'interno Di questo range Che va tra I68 E I65 Soprattutto Ce lo portiamo avanti Da fine febbraio Quindi Diventa una situazione Molto lenta Ma che può mettere Basi concrete Se appunto Lo scenario realzista Venisse confermato Detto questo ragazzi Mi fermo Fatemi sapere anche voi Cosa pensate Qui sotto nei commenti Vi ricordo di lasciare un like L'iscrizione Date un'occhiata E il link Che trovate questo sotto E noi ci riusciamo Prestissimo Con un prossimo video Ciao a tutti ragazzi